Un risarcimento danni per il nonno ucciso dai fascisti durante il periodo delle stragi. A richiederlo è un avvocato aretino. Era il 29 giugno del 1944, a Civitella, Cornia e San Pancrazio, si consumò una delle più efferate stragi nazifasciste dove morirono 244 persone. Tra esse anche il nonno di Roberto Alboni, Metello Ricciarini. Fu fermato da alcuni tedeschi, c'era un rastrellamento in corso, fu radunato insieme ad altre persone in una zona che c'è al di sotto di Civitella e fu purtroppo fucilato. Alboni, avvocato aretino, è stato il primo a chiamare in causa la Germania come responsabile civile di quella strage durante il processo di fronte al Tribunale Militare di La Spezia dove venne condannato l'unico superstite della divisione Hermann Göring. Alboni, costituendosi parte civile come i parenti di altre vittime, ottenne quindi una sentenza di condanna nei confronti della Germania, poi diventata definitiva ma di fatto inesigibile, fino alla pubblicazione del decreto legge del PNRR. All'articolo 43 di questo decreto legge si introduce una norma specifica per questo tipo di risarcimento. Questo articolo 43 del decreto legge sul PNRR istituisce un fondo per le vittime delle stragi naziste degli anni che vanno dal 43 al 45. A questo fondo possono far ricorso tutti coloro che sono in possesso di una sentenza definitiva, quindi passata in giudicato ed esecutiva. C'era tempo fino al 30 aprile per poter presentare questa richiesta a 800 mila euro era il risarcimento che all'epoca venne fissato dal Tribunale della Spezia per la morte del nonno di Alboni. Il fondo prevede che entro 180 giorni vengano emanati i decreti attuativi di questa legge, quindi c'è bisogno prima di avere l'effettivo pagamento delle somme di attendere i decreti attuativi. Appena ci saranno potremo, secondo le modalità che verranno stabilite, avanzare la nostra domanda sulla base della sentenza che ottenemmo davanti al Tribunale della Spezia.